In questi giorni Charles Randall su Twitter, un ex sviluppatore, ha fatto lo show, praticamente ha ricordato qualche aneddoto su Assassin's Creed 1 e quindi il gioco capostipite della saga. In Assassin's Creed non avevamo budget per uno scheletro o una mesh personalizzati per Malick, quindi il suo braccio mancante è solo a rovescio. Presumo che se si potesse vedere attraverso la tunica con la telecamera si vedrebbe un minuscolo braccio raggrinzito all'interno del bicipite. Anche il cavallo in Assassin's Creed 1 era solo uno scheletro umano contorto e incasinato, perché la nostra toolchain funzionava solo con bipedi in 3ds max. Un saluto ai fantastici animatori e allestitori che sono riusciti a far sembrare quel ragazzo un cavallo. A quanto pare i Griffin avevano ragione, i cavalli sono brutte persone.